Ciro, Ioppolo e l'ultimo Tropea. Io considero lo scioglimento dei consigli comunali uno strumento molto importante. Lo considero fondamentale per spezzare le capacità di condizionamento delle mafie sul territorio e tuttavia se mi è consentito lo considero anche un elemento da gestire con grande attenzione. E Valenzano, chiedo scusa, chi non capisce la sua scrittura è asino per natura. Quindi da questo punto di vista vi evito il commento, l'ho fatto io stesso.